Siamo a Roma per i 50 anni della SFA, la società di scienze farmacologiche applicate. Si è parlato di tanti temi, per quanto concerne soprattutto la ricerca e in particolare c'è stata un'interessante tavola rotonda per fare appunto il punto sulla situazione della ricerca in Italia. Il punto di vista dell'IRCCS ce l'ha raccontato il professor Massimo Fini, direttore dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. Allora, professore, innanzitutto, qual è la situazione in Italia per quanto riguarda gli istituti di ricovero a carattere scientifico? Parlare di ricerca biomedica in Italia allo stato attuale non è certo una cosa facile. Se dovessi dare un sottotitolo a questo simposio parlerei di cronaca, di promesse annunciate e mai mantenute. Purtroppo i fondi stanziati per la ricerca in Italia sono in netto e costante calo. La media europea è superiore al 2% del prodotto interno lordo, in Italia siamo all'1,2%. Gli RCCS come istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che dovrebbero essere un po' il vanto della ricerca traslazionale, cioè quella immediatamente utilizzabile dal malato, ovviamente ne risentono molto. Sono anche in aumento. I fondi a disposizione stanno calando, gli IRCS si stanno decuplicando, decuplicando no, però stanno sicuramente aumentando numericamente. Ad oggi sono 48, quindi è evidente che se la torta rimane la stessa e i commensali che accedono alla torta aumentano, vi è meno per tutti. Quali sono le fonti tradizionali di finanziamento degli RCCS? Sono di due tipi, la ricerca corrente e la ricerca finalizzata. La ricerca corrente è quella che viene destinata da parte del Ministero della Salute agli RCCS per il finanziamento di quelle che sono le tematiche pertinenti degli RCCS e che serve in misura variabile da IRCS a IRCS, ma intorno al 50-70% a finanziare, a pagare quindi il ricercatore, e la ricerca finalizzata che viene invece ogni anno stabilita sulla base delle priorità stabilite dal Fondo Sanitario Nazionale. È evidente che se questi fondi diminuiscono, purtroppo si riducono anche i soldi disponibili per pagare il ricercatore. Questo lo togliamo. Professore, qualche nota positiva? Riusciamo a trovarla in questo panorama? Sì, le note positive ci sono perché l'intelletto italiano è comunque sempre vincente. È stato pubblicato da poco su una prestigiosa rivista, Nature, un editoriale in cui si faceva una valutazione della capacità scientifica dei singoli ricercatori, sia come numero di pubblicazioni, sia come H-Index, cioè l'indice di citazione, i ricercatori italiani risultano i primi al mondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.